Ciao ragazzi io sono Nico Dine e sono ritornato con un nuovo video, una nuova sfida oggi andiamo a completare Paris Saint Germain vs Lille mi raccomando lasciate un mi piace, iscrivetevi, attivate la campanella ho veramente tanto bisogno del vostro aiuto andiamo a finire questa sfida e ad aprire anche il pacchettino vediamo, questa è la mia proposta per la sfida di oggi la potete fare anche voi tranquillamente con questi giocatori che vedete qui abbiamo 14 in più di intesa con un giocatore fuori posto che lo potete sostituire giustamente con un altro che vi fa ancora più intesa se avete bisogno ok ritiriamo un bel pacchettino 6 con 6 non è walk out, non è bandierina hernandez, bello hernandez e sotto un altro, due altri 80 dai dai dai, due altri si, belli champions bellishti champions quanto costano questi? tanto 3.500 3.400 che direi contento per un paio di giocatori così come no allora va bene dai poi li metto più tardi in vendita va bene ragazzi questo è stato il video di oggi io vi ringrazio vi saluto e ci vediamo con un prossimo vi ringrazio